Salve a tutti, oggi vi farò vedere degli investimenti sempre sulla 24 option con i supporti e le resistenze sul petrolio. Allora, per il momento il petrolio sta scendendo. Io aspetto un rialzo per investire a ribasso. Allora, sto investendo sempre 25 euro. Allora, adesso investo per il basso e vediamo. Allora, è già andata a ribasso. Vedete, qui esce la distanza, cioè i pip che va a ribasso. Ci dice quanti pip vanno a ribasso. Allora. 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 Il primo investimento è andato benissimo. Allora, adesso ne farò un altro, però mi sembra che la direzione sta di nuovo cambiando per il rialzo. Allora, scusate, sì. Allora, sì, come vedete il petrolio è andato a rialzo. Quindi sta ancora risalendo. Prenderei un punto più basso per la salita a questo punto. Allora, è sceso un pochetto. Vediamo il grafico. Io metto 50 nel caso dovesse andare male l'investimento. Allora, sta di nuovo scendendo. Quindi, prendiamo sempre un punto più alto per il ribasso. Un attimo che voglio essere sicura. Allora, prendiamo sempre il ribasso. Scusate, allora, devo fare degli aggiornamenti. Devo aggiornare la pagina. Allora, questo non è andato. Metti in pausa. Allora, sì, ho aggiornato la pagina. Allora, devo recuperare quelle 25 euro. Quindi, adesso vediamo la prossima mossa per stabilire la direzione. Allora, la direzione in questo momento è ribassista. Però, come sapete, nei 60 secondi potrebbe cambiare da un momento all'altro la direzione. Allora, io investirei per il ribasso. Allora, sta andando a ribasso. Vedete, più 1.0 pips. Allora, sta andando a ribasso. Quindi, in questo caso, recupererei le 25 euro. Sta andando a ribasso. Allora, questo investimento è andato. Allora, vediamo. Io continuo con il ribasso e ho investito 50 euro. Sta andando a ribasso. Adesso impari. Adesso ha ripreso a ribasso. Allora, è andato bene questo investimento. Quindi, 2 su 3 sono andati bene. No, 3 su 4 investimenti che ho fatto. Allora, adesso vediamo il prossimo. Sembra che sta cambiando direzione. Sta andando a rialzo. Vedete, se non riuscite a prendere proprio il punto esatto, potete fare annulla operazione, come ho fatto io. Però dovete essere veloci. Allora, secondo me andrà a rialzo, però io prendo la parte più bassa. Il prezzo più bassa. Il prezzo più basso per il rialzo. Se non lo riesco a prendere, faccio subito annulla operazione. Cosa che prima non era possibile fare. Adesso invece che hanno cambiato la grafica, è possibile fare. Allora, sì, sta andando a rialzo, come previsto. Ve ne accoggete di qui, più 2 pips a rialzo. Allora, sì, sta andando a rialzo. Allora, è andata bene anche quest'altra operazione di 50 euro. Io farei qualche altra operazione. Dunque, bisogna stabilire la direzione. Se si è fermato, rialzo. Quindi queste tre da 50 sono andate benissimo. Allora, sì, vuole scendere a ribasso. Secondo me, ecco, vedete, potete fare annulla operazione quando non siete più sicuri di quello che state facendo. Allora, sì, potrebbe andare a rialzo. A prova. Vedete? Quando potete fare subito annulla operazione, perché adesso vi danno un tempo, un margine per poter annullare l'operazione. Allora, sta andando a rialzo, sempre investito 50 euro. Sta salendo più 2.0 pips. Ok. È andata bene. Andiamo nello storico operazioni e vediamo. 4 operazioni bene, mentre una è andata male. Oggi è giorno 15, quindi è giusto. Allora, facciamo un conticino con la calcolatrice. Facciamo 34 euro di guadagno, perché il 68% più 34, più 34, più 34. Poi, uguale 136, meno 25, che ne ho perse, 111, più, sono dunque 25, più circa 18 euro, perché sono il 68%, più 18 euro, 129 euro di guadagno in questa sessione di pochi minuti. Volevo ricordarvi del mio sito www.opzionibinarie60secondi.it per chi avesse bisogno di aiuto. Allora, su questo sito, come vi ho detto, ci sono, come vi ho detto negli scorsi video, ci sono i grafici, i grafici unici e i grafici multipli già impostati con i widget di Freak Store Chart. E comunque, ci sono anche altri tipi di grafici che sono visibili anche con Chrome, perché i grafici di Freak Store Chart sono visibili solo con Internet Explorer, invece questi altri anche con Chrome, però non si possono mettere quelli multipli. Io qui, invece, vi ho messo varie tecniche, i grafici già impostati, multipli. Quindi, per chi volesse seguire alcune tecniche, ci sono già i grafici impostati. Poi, qui, ci sono altre mie strategie, che non sono tutte quelle che stanno su YouTube, perché non ho ancora messo i link, però, se qualcuno vuole qualche strategia proficua, può andare a vedere queste strategie. Poi, ci sono molti articoli che potete scaricare in formato PDF. Questi articoli vi serviranno per implementare la vostra cultura. Poi, ci sono le piattaforme consigliate. Quella che ho utilizzato è la 24 Option, dove il minimo deposito è di 250 euro. e se vi iscrivete da questo link, potrete avere i segnali gratuiti, iscrivendovi da questo link. Nella pagina finale vi metterò altri video dove faccio vedere come utilizzare i segnali. Infine, qua, c'è la sessione dei miei e-book. Ho scritto degli e-book, sia per principianti che per non principianti, per facilitarvi il vostro apprendimento, perché sugli opzioni binarie, adesso, diciamo, ci sono molti più articoli. Prima, quando ho iniziato io, non c'erano molti articoli, quindi ho dovuto faticare un sacco per riuscire a comprendere le opzioni binarie e riuscire a stabilire i tempi con le varie tecniche che io ho creato. Allora, ho voluto scrivere questi libri, questi libri che, diciamo, sono dei libri riassuntivi di tutto quello che dovete fare per poter imparare le opzioni binarie. Naturalmente, è compreso lo studio dell'analisi tecnica. Allora, le opzioni binarie dalla A alla Z è una seconda edizione del primo, Investire in opzioni binarie, pubblicato da Brun Editore, dove il principiante, leggendo questi e-book, può riuscire a capire come investire negli opzioni binarie e anche ad usare le mie tecniche. Qui ci sono i vari video di ogni capitolo, quindi potete vedere di che cosa parla l'e-book. Sto creando anche un video e-book, sempre di questo e-book, perché il video è molto col video, sentendo la voce, diciamo, si apprende un po' meglio del libro, perché ci sono molte persone che si scocciano a leggere i libri. Quindi io sto cercando di fare anche questi video corsi. Spero che uscirà entro questo mese questo video. Spero di riuscire a finirlo. Poi ci sono altri e-book dove ci sono varie tecniche per investire. In particolare in questi e-book, Piano d'azione per le opzioni binarie, ci sono delle tecniche per poter investire e come costruire un piano di trading. Poi ci sono le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie, tra cui le grandi teorie dei tre personaggi. Quest'e-book vi farà capire il perché i prezzi dei grafici si comportano in questa maniera. Poi c'è soluzioni pratiche per le opzioni binarie, e un e-book pieno zeppo di tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora. Quindi se avete bisogno di qualche tecnica potete acquistare questi e-book. Questi e-book sono vendibili su YouCanPrint, su Lulu, su Amazon e su tutte le librerie online come librerie universitaria, o Epli, Ibis e molte moltissime altre. Poi c'è Fibonacci negli opzioni binarie, un e-book che spiega come investire con Fibonacci, come trovare i target price, ci sono alcune tecniche, c'è anche la spiegazione approfondita dei supporti e le resistenze, quelle che ho usato io per questa tecnica, oppure le trendline, la tecnica a ventaglio delle trendline, ecc. E di qui potete scaricare anche dei video dimostrativi delle tecniche. Poi ci sono le migliori tecniche per le opzioni binarie, volume 1 e volume 2, dove io ho scelto alcune tecniche più accurate e molto più lente, con tempi un po' più lunghi che vanno con la scadenza di 10, 15 minuti, 20, mezz'ora e anche tecniche con scadenza giornaliera, insomma, per coloro che amassero investire più lentamente e non come faccio io con i 60 secondi. Quindi queste sono delle tecniche migliorate dove nel secondo volume c'è anche uno studio sui volumi e nel primo volume c'è gli orari di trading migliori per poter investire negli opzioni binarie. C'è anche, diciamo, che cosa sono i pivot point perché c'è appunto una scadenza che c'è appunto una tecnica che viene fatta con i pivot point. Quindi c'è la spiegazione anche di che cosa sono i pivot. Allora, spero di esservi stata d'aiuto anche oggi. Oggi c'è stato un guadagno di 129 euro. Come avete visto, anche se posseggo un capitale maggiore, io non investo mai somme troppo elevate perché quando si sbaglia, sì, si può raddoppiare, però molte volte si viene presi dal panico e succede che si perde ancora di più e naturalmente raddoppiando sempre poi va a finire che si perde tutto il capitale. Allora io inizio sempre da 25 euro magari per poi raddoppiare se sbaglio anche se ho un capitale maggiore che mi permetterebbe di investire molto di più. Allora, io vi lascio al vostro studio se qualcuno non ama i 60 secondi io vi ho detto che qui ci sono altre strategie che potete usare a 5-10 minuti a 10-15 minuti a 20-30 minuti a un'ora ci sono alcune tecniche per il Forex quindi ci sono strategie per tutti per tutte le persone e per tutti i tipi di caratteri vi auguro buona giornata grazie per la vostra attenzione al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti